Buonasera dal TG Territori e Cultura. La grande lirica torna al Teatro Sociale di Mantova. Il 20 novembre andrà in scena il Rigoletto per la regia di Giampaolo Zennaro. Tornano le grandi opere al Sociale di Mantova. Occhi puntati il 20 novembre alle 20.30 quando in scena andrà il Rigoletto di Verdi per la regia di Giampaolo Zennaro. Su musiche dell'orchestra sinfonica dei Colli Morenici, diretta dal maestro Riccardo Leon Boretto con il coro lirico San Filippo Neri e la presenza scenica del gruppo storico Città di Sabioneta. Rigoletto con il Trovatore e la Traviata è parte della cosiddetta Trilogia Popolare di Verdi. Centrato sulla drammatica e originale figura di un buffone di corte, Rigoletto fu inizialmente oggetto della censura austriaca. La stessa sorta era toccata nel 1832 a Leroy Samus, bloccata dalla censura e riproposta solo 50 anni dopo la prima. Nel dramma di Hugo, che non piacque né al pubblico né alla critica, erano infatti descritte senza mezzi termini le dissolutezze della corte francese con al centro il libertinaggio di Francesco I, re di Francia. Nell'opera si arrivò al compromesso di far svolgere l'azione alla corte di Mantova a quel tempo non più esistente trasformando il re di Francia nel duca di Mantova e cambiando il nome del protagonista da Tribule a Rigoletto.